Perché se strafinate un po' le foglie si sente un po' la tavola di limone, quindi questa la potete utilizzare in alternativa al vero limone perché ha un sapore un po' leggermente diverso. Quindi strafinate un po', sentite quello dove? E quali sono gli effetti, le proprietà? Che proprietà ha? Grazie. Grazie.